Buonasera, bentornati ad una nuova puntata di Antropos che questa sera dedicheremo al Museo del Cinema, un museo così importante che è un vecchio progetto che è nato nel 1941 ad opera di una collezionista storica che è Maria Adriana Polo, un museo che apre i suoi battenti nel 1956 nel Palazzo Chiabrese accanto al Palazzo Reale, ma nel 2000 viene inaugurato, si sposta all'interno della Mole Antonelliana che è il simbolo della città, il simbolo così importante di Torino e grazie a un allestimento fantastico dell'architetto François Confinot diventa un suggestivo luogo ammirato in tutto il mondo. Il museo si sposta nella Mole e che cosa accade? Accade che improvvisamente da piccolo museo di nicchia frequentato da poche migliaia di visitatori ogni anno diventa uno dei musei più amati della città di Torino, più frequentati, più visitati. Già il primo anno, dal giorno dopo dell'apertura dell'inaugurazione del museo, cominciano ad arrivare flotte di turisti, di curiosi appassionati che poi costruiscono quel passaparola che fa sì che il museo diventi immediatamente un museo di grande successo. Oggi è tra i musei più visitati della nostra città con oltre 600 mila visitatori all'anno ma questo come dire è solo l'inizio di un processo nel senso che fino a quel momento il museo che cosa aveva fatto? Aveva garantito la conservazione di questo grande patrimonio e gestito uno spazio espositivo come dicevo prima diventato di grande successo. Da quel momento in poi comincia un processo di crescita se non di trasformazione per diventare uno dei poli culturali più importanti della città accumulando le attività. Senta allora intanto prima perché poi c'è tutto l'aspetto delle attività che sono tantissime allora prima per parlare del museo perché qui stiamo parlando di un patrimonio enorme se non sbaglio però lei corre che i miei dati stiamo parlando di circa 1 milione e 700 mila pezzi di collezione tra stampe film cinema cortometraggi documentari dipinti la biblioteca che ha più di centomila libri se non sbaglio 800 mila documenti fotografici 600 mila manifesti allora tutto questo si riesce ad accorpare avviene nel tempo o tutto questo è l'improvviso viene viene sistemato all'interno della mole che poi di suo dicevo attrae perché è un posto l'allestimento fantastico il cinematografico fantastico e di per sé il posto ha una grande attrazione che cos'è qual è è il mix che funziona o quale di queste di questi ingredienti che comporta il grande successo del museo ma io credo non ci sia dubbio sul fatto che le due cose insieme il fatto che il museo sia all'interno dell'edificio simbolo della città e che di per sé sia un grande elemento di attrazione abbiano determinato il successo di questa iniziativa la mole prima quando era vuota sostanzialmente e aveva un unico vecchio ascensore che portava al tempietto panoramico accoglieva 15 mila visitatori all'anno adesso è arrivata a 600 mila e questo è sicuramente grazie al fatto che il museo ha una capacità straordinaria di fascinazione beh a questo allestimento è fantastico tra l'altro tutto verticale sì perché poi quando prima di allestire il museo è stata ristrutturata la mole sono stati creati sono state create una serie di strutture interne che prima non c'erano questa scala elicondale che ricorda un po il museo Guggenheim di New York inventata da Grittel che è l'architetto che ha fatto la ristrutturazione è vero il parallelo è sempre stato quello no tutto questo sicuramente aiuta nel senso che aiuta anche a conoscere meglio a scoprire un monumento di persona eccezionale ma che prima non si sentiva il bisogno di andare a visitare beh non aveva questa fascina ma di un altro tipo esatto bisogna dire che gran parte la maggior parte di questi elementi della collezione di questo patrimonio straordinario che è il secondo per dimensione importanza al mondo dopo quello della Symmetra Francaise di Parigi non stanno alla mole intonegliana perché gli spazi positivi sono apparentemente enormi ma in realtà piccolissimi perché sono circa 2000 metri quadrati dell'intera superficie espositiva quindi tutto sta in depositi in magazzini un po nascosto purtroppo perché non c'è modo di esibirlo ma questo è un po il problema di tutti i musei del mondo non è solo un problema del museo del cinema questa collezione grandissima si è costruita ovviamente nel corso del tempo ha iniziato Maria Diana Prono negli anni 40 e tra l'altro usava proprio dei sotterranei della mole per ospitare i primi oggetti trovati a portapalazzo i primi pezzi raccolti attraverso il mercato delle pulci eccetera eccetera però già all'inizio degli anni 90 quando l'associazione museo nazionale del cinema decide di cedere alla città di Torino l'intero patrimonio, l'intera collezione in cambio della promessa di edificare un nuovo museo e di trasformare e di costruire la fondazione museo nazionale del cinema già allora il patrimonio era vicino al milione e mezzo di pezzi, di elementi quindi era già un patrimonio ricchissimo che poi costantemente è andato crescendo oggi siamo arrivati a oltre un milione e 700 mila pezzi, quasi un milione e otto perché arrivano donazioni, facciamo acquisizioni quando abbiamo le risorse per poterlo fare ma poi per esempio è diventato uno dei punti di riferimento per il cinema italiano quindi registi, sceneggiatori, attori o discendenti di questi artisti sanno che depositando o donando gli archivi personali di questi artisti al museo del cinema ottengono in cambio non soltanto la conservazione ma la catalogazione, la valorizzazione perché noi procediamo poi a digitalizzare i vari elementi e a renderli accessibili agli studiosi, agli studenti ma anche in realtà al pubblico che vuole approfondire Senta, c'è un ordine di grandezza di visitatori da quando è nato? Sì, credo dunque bisognerebbe fare la somma l'abbiamo fatta più volte calcolando che è una media di mezzo milione all'anno che il museo del cinema ha aperto nel 2000 quindi questo è il tredicesimo anno di attività vuol dire che abbiamo praticamente superato i 6-7 milioni di visitatori Accidenti, una roba complice il fatto che Torino è diventato un'importante meca turistica però il museo della Mole è stato un grande polo attrattivo da quando è iniziato il piano strategico della città la città ha cominciato a cambiare volto Senta, però quello che sfugge forse ai più è che in realtà il museo svolge tante attività cioè si occupa, lei mi diceva, in realtà sono sette aspetti, sette sorelle importanti allora affrontiamone qualcuna Beh intanto c'è la gestione delle collezioni, il patrimonio che di per sé rappresenta una grande quantità di lavoro è un grande impegno perché tutti i pezzi devono essere catalogati devono essere, deve essere garantita la conservazione in condizioni adeguate e devono essere praticamente restaurati quindi c'è un gruppo di persone in realtà abbastanza piccolo perché le risorse umane su cui possiamo contare non sono enormi che si occupa quasi esclusivamente di garantire la conservazione di questo ingente patrimonio poi c'è l'attività del museo come tale, con tutte le attività connesse le attività didattiche per le scuole, per il pubblico in generale le mostre temporanee che facciamo all'interno della monotonegliana sono almeno tre ogni anno che comportano un lavoro di preparazione, di contatti e organizzazione di contatti, a volte di ricerche scientifiche e storiche per assemblare i vari elementi necessari alle mostre le pubblicazioni, cataloghi, libri, monografie eccetera e poi il cinema massimo che è un'altra componente essenziale perché lì succede tutto nel senso che un museo del cinema non può non proiettare dei film non può, come dire, far conoscere alle nuove generazioni per esempio o ai vecchi spettatori che hanno voglia di rivedere film altrimenti inaccessibili i classici della storia del cinema magari restaurati magari restaurati, visto che sempre di più per fortuna si restaurano i classici del passato delle perle del passato abbiamo la possibilità grazie alle relazioni che abbiamo con la maggior parte delle cineteche in giro per il mondo di avere accesso a coppie nuove o in 35 mm o in digitale che ci consentono di proiettare in versione originale e in coppie perfette dei capolavori che spesso magari si possono anche trovare su altre piattaforme per esempio internet oppure oppure altre visioni private che proiettano non sempre in coppie di buona qualità non sempre in coppie di buona qualità non restaurate e poi fuori dall'ambito del cinema i film bisogna vederli al cinema perché è un'altra esperienza naturalmente questo bisogna sempre ricordarlo e poi dal 2005-2006 ci sono stati affidati i tre festival cittadini e lì c'è un lavoro in mano c'è un lavoro enorme complicato Stiamo parlando di Torino Film Festival Torino Film Festival Torino Film Festival e il Festival GLBT dedicato ai film con tematiche omosessuali sono tre appuntamenti che sono diventati appuntamenti imperdibili a livello internazionale il cinema ambiente è uno dei festival leader in questo ambito l'abbiamo avuto ospite tutti gli anni l'ospitiamo proprio perché ha una risonanza credo in Italia sia il più importante e tra i dieci festival dedicati all'ambiente più importanti del mondo è vero bene, seconda parte di Anthropos che questa sera abbiamo dedicato al Museo del Cinema stavamo parlando con Alberto Barbera dei tre festival che il Museo del Cinema organizza allora parlavamo di cinema ambiente realtà molto importante a livello internazionale direi poi c'è Torino Film Festival altra realtà sì, Torino Film Festival è il festival più anziano dei tre è nato 31 anni fa è diventato uno dei festival più importanti in Italia è un punto di riferimento per il cinema indipendente a livello internazionale è dedicato come sapete ai giovani talenti ai registi emergenti le cinematografie meno frequentate dalla distribuzione commerciale si è davvero costruita una patente di credibilità ma grazie alla serietà delle sue proposte molto rigorose molto molto curioso perché ha sempre fatto un lavoro di esplorazione di immargini del cinema eccetera beh io l'ho visto da vicino tutti gli anni lo seguo da vicino dal punto di vista giornalistico ed effettivamente devo dire è proprio un festival di contenuti un festival assolutamente di contenuti con pochissimo glamour pochi ospiti importanti perché in realtà non è quello lo spirito è una scelta mi sembra è una scelta no giustamente si lavora sul nuovo cinema il nuovo cinema non non punta sulle star non punta sul glamour punta su altri elementi punta sull'innovazione la capacità di innovare i contenuti tra l'altro da lì sono partiti dei registi ma certo sono tantissimi registi perché poi prevede tanti premi il festival quindi ci sono tanti emergenti sono diverse sezioni lungometraggi cortometraggi documentari l'unica forma espressiva non frequentata è forse il cinema d'animazione perché è troppo specialistico però sono passati al Torino autori che poi sono diventati famosissimi le prime opere non so per esempio negli anni 80 il cinema giovani all'epoca si chiamava ancora così ha fatto conoscere il cinema cinese la quinta generazione di cineasti cinesi da Chen Kaighe a Wu Xiaoshan a Eduard Yang questo è un grandissimo merito poi ha contribuito a far conoscere il cinema iraniano negli anni 90 cioè quindi come dire ha sempre avuto questo atteggiamento di curiosità rispetto alle novità promuovendole sostenendola facendole conoscere che è il suo merito il merito che tutti gli riconoscono il merito che tutti gli riconoscono è diventato infatti unico del suo genere no no merito che tutti gli riconoscono attualmente è cambiato il direttore del festival i direttori sono cambiati di più volte nel corso del tempo negli ultimi sei anni siamo passati da Nanni Moretti che ha contribuito sicuramente a fargli fare un salto di qualità in termini di anche di pubblico di visibilità di mediaticità il termine è bruttissimo ma insomma dopo Nanni Moretti c'è stato Gianni Amelio gran cinefilo grande organizzatore che ha fatto crescere ancora di più il pubblico è stato molto bravo è stato molto bravo con un grande gusto personale con grande capacità di mescolare gli elementi attenzione anche di aprire un po' il festival nei confronti come dire del grande pubblico con puntate nel cinema di genere per esempio nel cinema horror nei generi più amati dai giovani eccetera adesso stiamo cambiando di nuovo è stato nominato da pochi mesi è arrivato Verzi è arrivato Verzi persona simpaticissima piena di energia noi giornalisti l'abbiamo incontrato in conferenza stampa e molto l'abbiamo trovato molto disponibile molto aperto anche propositivo rispetto assolutamente sì è un vulcano di idee persino troppo bisogna un po' frenarlo perché ha tendenza un po' di nostro affare quella è una delle fatiche qualche volta però è un vero talento io poi ho un bruttissimo compito devo ricordargli che il budget è sempre lo stesso e che non si può sì perché li chiedeva già in conferenza stampa già faceva presente che il problema era abbastanza sentito senta però come funziona l'organizzazione allora i tre festival mantengono l'autonomia intellettuale sì i tre festival hanno una struttura diciamo così culturale e di programmazione assolutamente autonoma c'è il direttore c'è il direttore che sceglie i suoi collaboratori selezioni di film selezioni di film decide le sezioni i premi eccetera eccetera le giurie certo le attività collaterali e quant'altro in totale è assoluta autonomia rispetto alla quale nessuno può interferire o o o il museo si occupa soltanto ed esclusivamente ma è una parte importantissima come potete immaginare della gestione e dell'amministrazione delle risorse destinate a sostenere il festival quindi bisogna fare un budget all'inizio dell'anno bisogna con il direttore decidere come utilizzare le risorse che sono sempre progressivamente tendenti a diminuire anziché a crescere soprattutto in questo periodo soprattutto in questo periodo e poi si fa quello che si chiama il controllo di gestione perché non non si può sforare quindi bisogna che tutte le spese corrispondano alle previsioni che hanno state fatte è faticoso se si tiene conto che i tre festival sono cresciuti tutti e tre e sono tre in periodi diversi dell'anno è un continuo immagino tra contatti che bisognerà tenere organizzazioni senta poi continuiamo sulle attività del museo perché ce n'è ancora io vorrei parlare anche di di film lab che è molto importante però volevo fermarmi un secondo sulla gestione delle organizzazioni dei festival perché è impossibile non fermarci soffermarci un attimo sulla polemica che poi come diceva lei è un termine antivatico ma poi è diventata mediatica che c'è stata su un su contratto di lavoro di alcuni precari che erano stati che lavoravano per l'organizzazione del torneo film festival che il loach che era uno dei insieme a Ettore Scola era uno dei due premi del festival in realtà si è ribellato a questa a questa no a questa realtà del festival e non è venuto e da lì è scoppiata una polemica ma lì che cosa è accaduto? no è un sostanzialmente un grosso equivoco nel senso che c'è una cooperativa di servizi che tra l'altro è quella che fornisce il personale della maggior parte dei musei cittadini e in molti musei italiani quindi una grossa cooperativa di servizio che aveva che gestisce anche l'accoglienza al museo del cinema alla mole che aveva licenziato due persone per problemi interni rispetto ai quali il museo non può assolutamente intervenire perché è una società esterna e certo esterna al museo in tutti i sensi bene Ken Locci è venuto contattato da questi due ragazzi licenziati si è fatto carico di questo problema come dire individuale l'ha letto come un maltrattamento del museo con una forma di pressione indebita nei confronti di personale che non è alle proprie dipendenze e quindi ha innescato una polemica che ha coinvolto in realtà come dire tutti i precari che lavorano per il museo del cinema perché dico precari perché effettivamente lei se ne sta occupando da un po' di tempo me ne sto occupando da parecchi mesi nel senso che per fare tutte queste attività i tre festival il Torino Film Lab anche altre attività le attività didattiche eccetera non avendo la possibilità di almeno finora di assumere personale per il blocco degli organici per mancanza di soldi eccetera che cosa ha fatto il museo come tutte le altre istituzioni e come moltissime imprese private ha fatto ricorso a quelli che si chiamavano i contratti a progetto la riforma Fornero che è entrata in vigore nell'estate scorsa ha fortemente limitato la possibilità di accendere contratti di questa natura e quindi tutte queste persone che avevano lavorato per molti anni per garantire il funzionamento dei festival si sono improvvisamente trovate diciamo così senza lavoro certo abbiamo dovuto come dire individuare le possibilità di regolarizzare questi rapporti di collaborazione trasformando in realtà la maggior parte di questi contratti a progetto in assunzioni vere e proprie è quello che stiamo facendo però è complicato perché mancano soldi molto complicato perché naturalmente vuol dire aumentare i costi vuol dire aumentare l'impegno nei confronti dei dipendenti raddoppiare di fatto l'organico del museo che passa da 47 a 48 dipendenti a al doppio a quasi il doppio d'altra parte l'unica forma consentita dalla legge non si poteva fare diversamente ma questo per dire che la polemica innescata da da Ken Loach era forviante era sbagliata perché lui aveva un potere insomma il suo nome aveva il potere di trascinare tutto però dall'esterno è un po' difficile capire le situazioni è difficile far capire la differenza fra i rapporti con una cooperativa esterna dei servizi fra i precari che invece hanno un rapporto diretto con il museo che abbiamo ripeto tutti regolarizzati e quindi con un grosso impegno con un grosso sforzo che ci costringerà anche a individuare risorse alternative per poter far fronte a questa nuova situazione bene senta allora per tornare invece all'attività del museo io volevo parlare di FinLab perché è una realtà importantissima di chi si tratta? il Torino FinLab è stata un'invenzione di sei anni fa 2007-2008 quando insieme con la Film Commission cui abbiamo spesso collaborato e al Torino Film Fest ci siamo detti che era opportuno affiancare all'attività di vetrina del TFF un laboratorio di sviluppo e sostegno di opere prime e seconde talenti emergenti talenti emergenti a livello internazionale eccetera in realtà questa idea che è un laboratorio che dura tutto l'anno e che si conclude in concomitanza con i sette giorni i nove giorni di svolgimento del TFF è diventato in poco tempo un punto di riferimento a livello internazionale proprio per le modalità di svolgimento una parte delle risorse che ci vengono messe a disposizione dal Ministero dei Beni Culturali soprattutto Regione Piemonte Città di Torino e in parte anche da partner europei la Commissione Europea altri festival eccetera servono a servono a due cose da una parte a sostenere lo sviluppo di sceneggiature attraverso tutors internazionali che aiutano i giovani registi a formulare le loro sceneggiature a modificarle a correggere rendendole soddisfacenti dal punto di vista complessivo una parte di queste risorse viene invece investita direttamente nel sostegno della produzione lei ha coperto questo incarico in precedenza dal 98 al 2002 oggi torna e mi diceva sì torno ma sono tornato con nuove proposte voglio fare nuove cose questa è stata la condizione sì ma per due motivi uno perché non aveva senso tornare a fare quello che si era già fatto una volta in passato due perché in realtà sono trascorsi undici anni dall'ultima mostra che avevo fatto la prima volta e tutto è cambiato certo è cambiato l'universo del cinema è cambiato l'industria cinematografica l'industria culturale è cambiato il ruolo dei festival e quindi non si poteva tornare a riproporre lo stesso modello che una volta funzionava e che oggi così com'è che cosa c'è di diverso del modello è diventato tutto molto più complicato molto più difficile molto più i festival hanno un ruolo strategicamente meno importante di quanto non avessero una volta in termini di promozione dei film oggi soprattutto le grandi medie saldivodiane sono più eventi utilizzano altri eventi per promuovere i propri film piuttosto che non scegliere di andare a un festival dove i costi di partecipazione sono altissimi quindi un investimento elevato a fronte di un rischio grosso perché se il film viene accolto criticamente male dalla stampa Presidente del Festival diventa un boomerang nei confronti di chi invece va lì per tentare di vendere no? un prodotto e quindi i festival hanno un po' smarrito un'identità che avevano mantenuto per decenni e decenni dal momento in cui sostanzialmente sono nati è vero che Venezia è il festival più antico del mondo il primo no? nato nel 1932 gli altri festival sostanzialmente nascono tutti nel secondo dopoguerra quindi è quello che si identifica come il festival del cinema sì perché è il più non soltanto il più antico ma anche il più prestigioso certo il più prestigioso il più rinomato il più e poi è un è considerato ancora un evento è l'unico come dire mostra d'arte cinematografica già dal titolo in qualche modo si caratterizza una sua una sua posizione diversa da tutti una connotazione particolare una connotazione molto particolare però dicevo valeva la pena di tentare di fare qualcosa di nuovo anche perché Venezia soffre di tanti problemi la sua le sue difficoltà logistiche la sua carenza a livello di di strutture alberghiere le poche sale bellissima ma difficilissima insomma difficilissima da 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 difficilissima come dire dal punto di vista della concorrenza con altre manifestazioni che sono Cannes Berlino Toronto Busan in Corea che sono molto più aggressivi che hanno molte risorse economiche e che negli ultimi anni hanno conquistato un ruolo sempre più importante e allora che si può fare? allora mi sono detto bisogna tentare di come dire rimettere al passo coi tempi anche la mostra d'arte cinematografica non può più essere una semplice vetrina di prodotti prestigiosi perché diventa sempre più difficile accedere a un prodotto di grande richiamo esclusivo e poi comunque rispetto agli altri e quindi bisogna costruire attorno alla mostra di Venezia una serie di altri eventi che facciano che l'aiutino a rafforzare il proprio ruolo in uno scenario internazionale quindi mi sono detto bisogna per esempio creare anche a Venezia un mercato dei film un mercato cinematografico una volta c'era in Italia che cosa vuol dire il mercato di un festival? un mercato è come dice la parola stessa la piazza del mercato una piazza del mercato un posto in cui si vendono a volte si vendono i prodotti finiti più spesso si vendono addirittura i progetti cioè un produttore che ha l'idea di un film e che ha bisogno di trovare dei finanziatori o dei distributori lì dipende dalla forza del produttore o dalla forza del registro dipende da tante cose naturalmente però insomma è un luogo fisico in cui si incontrano gli operatori commerciali i distributori i produttori gli agenti di vendita però questo deve essere un carico che si fa la mostra perché a quel punto crea quei contatti beh diciamo che la mostra intatto crea uno spazio fisico attrezzato a disposizione di questi operatori commerciali poi li convince a venire al festival in quei giorni per fare in piena autonomia quello che sanno fare che vogliono fare cioè no scambiarsi progetti vendere quote di partecipazione ai film o vendere film già finiti qual è la piazza che ha pensato fisicamente il luogo la location il luogo il luogo è l'eccesor che è l'unico grande albergo rimasto aperto al lino di Venezia di cui utilizziamo un piano il secondo piano che beh si presta però per la mostra si presta benissimo certamente però purtroppo come dire è piccolo e sta diventando insufficiente rispetto alle esigenze di un grande festa internazionale però insomma per il momento fa ancora svolge ancora il ruolo per cui senta un'altra cosa che mi diceva a Venezia bisogna intervenire anche sulle location perché mi rendo conto che tutti i vari spazi dedicati certo come si fa da dove si tirano fuori a Venezia? Venezia è complicatissima beh poi non è neanche Venezia perché parliamo del Lido cioè parliamo ancora di uno spazio diverso cioè parliamo di una piccola isola poco frequentata durante tutto il resto dell'anno che si anima in questo un luogo di seconde case o di residenti che amano poco il clamore delle folle e l'affollamento tipico dei giorni del festival per cui le strutture sono rimaste per sono quelle che esistono lì da decenni mentre invece sono cresciute le esigenze e le aspettative degli operatori commerciali quindi bisogna fare con quello che è possibile insomma che si ha a disposizione quindi si tratta di ristrutturare i vecchi edifici il palazzo del cinema il casino le strutture temporanee eccetera per cercare di rendere tutto ciò funzionale allo svolgimento il momento di un grande appuntamento internazionale dove vengono sempre più giornalisti sempre più spettatori eccetera senta un'altra cosa che lei mi diceva complica un po' l'andamento dei festival del cinema è la grande affluenza di film e mi diceva ce ne sono troppi è vero? beh la tendenza di tutti i festival del mondo è di evitare sempre più film come se questo fosse un marchio di qualità in realtà è esattamente il contrario siccome i buoni film sono pochi allargare il numero degli inviti vuol dire abbassare l'asticella della qualità e soprattutto vuol dire affollare il palinsesto di un festival di tantissimi titoli che nessuno ha modo di vedere e dal punto di vista dei produttori e distributori ha modo di valorizzare, di promuovere per cui l'altra cosa che ho detto è stata quella di dire andiamo un po' contro tendenza riduciamo il numero dei film invitati siamo più selettivi quindi puntiamo di più sulla qualità che non sulla quantità e questo ci darà modo anche di venire in conto ad altre esigenze uno di consentire a produttori, registi, autori, distributori di valorizzare al meglio i prodotti che portano al festival perché hanno più spazio, più tempo eccetera e poi dà a noi la possibilità di fare più repliche dello stesso film e quindi di consentire a tutti operatori commerciali, giornalisti spettatori comuni eccetera di vedere i film perché prima... Sì, questo è un problema reale lo dico da giornalista l'accavallamento dei film rende isterico il fatto di poterli seguire si spasta da una parte all'altra poi se si vede il film si perde la conferenza se si guarda la conferenza si perde il film quello effettivamente... E poi se c'è una sola proiezione riservata ai giornalisti e in quel momento uno sta facendo altro il film è perduto e quindi invece bisogna dare la possibilità di... quindi c'è un certo ragione secondo lei di scarto di perdita di film quando se ne presentano troppi cioè insomma vanno un po' persi poi questi film vanno un po' persi ma il vantaggio è che uno può dire ecco ho scelto i 50 film più interessanti che in questo momento sono... erano pronti e disponibili per un grande appuntamento internazionale come Venezia ne ho lasciati fuori forse altri 20 o 30 che avrei potuto invitare perché comunque erano film interessanti eccetera però insomma pazienta andranno ad altri festi andranno ad altri modi per farsi conoscere e per raggiungere il loro punto Senta ma c'è riuscito a Venezia? l'hanno accettata questa cosa? Sì l'hanno accettata è difficile da capire All'inizio sembrava un impoverimento del festival quindi qualcuno ha parlato di un festival più sobrio come se fosse in realtà un festival capace di offrire di meno poi l'esperienza pratica ha dimostrato che invece era un festival che offriva una serie di vantaggi prima di tutto la qualità il secondo la possibilità di vivere l'esperienza dei festival in maniera meno concitata e meno neurotica e tutti alla fine erano soddisfatti tutti i festival del mondo ormai i grandi festival quasi tutti insomma hanno capito che non possono essere soltanto delle vetrine dove si presentano già finiti e completate ma devono svolgere un ruolo attivo all'interno di quel sistema produttivo che è molto complesso e molto articolato i grandi festival come Cannes, come Berlino, come Rotterdam, come Sundance di Redford hanno creato a fianco del festival delle iniziative di sostegno del cinema indipendente, dei giovani autori delle cinematografie meno protette e meno ricche nel panorama internazionale allora mi sono detto perché soltanto Venezia non ha qualche cosa del genere persino Torino, con Torino Film Lab è diventata un appuntamento importantissimo un laboratorio importantissimo a livello mondiale però non potevamo riproporre a Venezia la stessa cosa di Torino non avrebbe avuto senso in uno stesso paese l'Italia avere due iniziative assolutamente annagole che rischiamo di farsi concorrenza vicenda e sovrapporsi quindi ho detto inventiamo qualcosa d'altro qualcosa anche di molto più ambizioso Venezia, come dire, grazie al suo prestigio al suo valore può rischiare anche qualcosa di più e allora abbiamo fatto abbiamo creato qualcosa che non ha precedenti in nessuna parte del mondo almeno finora poi sono certo che ci copieranno perché l'esperimento sta funzionando e quindi sicuramente qualcun altro tenterà di farlo abbiamo detto facciamo una cosa che abbiamo chiamato Biennale College Cinema che è un laboratorio che dura un anno ma in questo arco di tempo di 12 mesi al massimo si passa dall'idea di un film alla sua realizzazione tutto in un anno una vera scommessa in un anno soltanto qualcosa che fino a... ma vuol dire che è un film che poi verrebbe proiettato alla mostra del cinema che poi verrà proiettato alla mostra del cinema di Venezia una follia una follia da tutti i punti di vista hai coraggio però sta funzionando è il primo anno naturalmente il primo il primo Biennale College è partito lei mi diceva vengono selezionate tre progetti prima vengono selezionati 15 progetti di giovani registi all'opera prima o seconda anzi di un team fatto da un regista e da un produttore ne abbiamo selezionati 15 dagli oltre 400 progetti che ci sono pervenuti nell'ottunno scorso questi 15 team sono venuti a Venezia a gennaio per fare un primo workshop alla fine lavorando con tutors che li hanno aiutati a sviluppare l'idea del film alla fine di questo primo workshop durato 15 giorni abbiamo scelto tre progetti tre progetti di film molto diversi un americano un italiano e un thailandese che dovranno essere realizzati nei prossimi mesi e completati in tempo per la mostra di Venezia del 2013 e sono progetti che ricevono anche un finanziamento sono progetti che vengono finanziati interamente dalla benna di Venezia e dal suo par del suo sponsor che è Gucci con 150 mila euro ciascuno una cifra apparentemente piccolissima ma oggi il digitale consente di fare lungometraggi con queste cifre apparentemente modeste paradossalmente si sono abbassati i costi si sono abbassati moltissimi i costi e quindi a Venezia quest'anno vedremo tre film nuovi nati dall'esperienza del Vignale College e realizzati all'interno del Vignale bellissimo progetto che comporterà dei tempi perché penso allora la selezione lei mi diceva di 400 progetti o staff avete selezionati per arrivare a 15 dall'autunno cioè da ottobre fino a gennaio sì da gennaio a marzo aprile il secondo stage il secondo stage e in realtà a marzo i tre sei mesi no ma meno ma meno cinque mesi di tempo per girare montare fare la post produzione completare il film per poterlo presentare a Venezia a settembre senta la i team diceva sono un regista e un produttore e un produttore poi loro selezionano il loro casting beh naturalmente sceglieranno gli attori il musicista e lì lo fanno in totale autonomia loro fanno in totale autonomia loro hanno a disposizione questa cifra che non possono dalla quale non possono sforare perché la scommessa è quella non possono aggiungere dei soldi non possono aggiungere altri soldi non possono trovare dei coproduttori eccetera la scommessa è fare quel film con 150 mila euro al massimo vedremo se funziona senta i giurati sono tra i migliori cioè di coloro che selezionano che fanno i docenti che fanno questi stage sono selezionati in tutto il mondo sono professionisti che lavorano in questo ambito da tantissimo tempo e arrivano da tutto il mondo c'è la direttrice dell'independent feature project di New York che è una associazione dei produttori indipendenti americani c'è un inglese che lavora però con il festival di Dubai che si occupa del mercato delle coproduzioni del festival di Dubai c'è l'ex direttore della sezione cinema di Arte che è la grande revisione culturale franco tedesca e tanti altri produttori, sceneggiatori gente che abitualmente fa questo di mestiere quindi sono grandi esperti che possono dare un contributo significativo a giovani alle prime armi che devono confrontarsi con le difficoltà di realizzare un primo film o un secondo film senta, pensando a Venezia nella sua totalità Venezia è bellissima, splendida, prestigiosa ma è una città molto difficile impraticabile, sovraffollata bombardata credo da turisti sicuramente ma anche da milioni di progetti, di richieste è una città sotto pressione vista dal punto di vista di che appunto deve organizzare una manifestazione così importante se dovesse riassumere i principali problemi da organizzatore, da grande organizzatore Venezia è un bellissimo fascino soprattutto rispetto a registi e attori che vengono da tutte le parti del mondo dire Venezia vuol dire citare uno dei luoghi che appartengono all'immaginario collettivo di tutto il mondo venire a Venezia per chi non c'è mai stato è un sogno e tornarci per chi la conosce è una cosa fantastica quindi nessuno dice no a Venezia perché è un luogo fantastico poi naturalmente tutto il resto è difficile è difficile arrivarci, è difficile trasferirsi dall'aeroporto a Lido è difficile muoversi fra Lido e Venezia perché i collegamenti sono quello che sono insomma le strutture alberghiere e ricettive sono a Lido estremamente limitate e anche poco moderne diciamo pure francamente quindi c'è anche una difficoltà di adeguamento alle aspettative come dire se un regista o un attore hollywoodiano viene a Venezia si aspetta di trovare lo stesso comfort degli hotel di lusso fascino sicuramente tantissimo il comfort invece a Venezia non sempre corrisponde alle esigenze e alle aspettative quindi insomma queste sono le difficoltà un numero limitato di sale spesso insufficiente ad accogliere tutti gli spettatori che vorrebbero frequentarle e allora come si può sopperire a quel problema? anche quello l'ho visto da vicino ho visto che effettivamente si creano poi delle code si creano purtroppo le code ci sono in tutti i grandi festival anche a Cannes se uno vuole andare a vedere un film anche a Torino naturalmente bisogna armarsi di pazienza a fare magari mezz'ora qualche volta un'ora di code vabbè del resto si concentra un evento quindi è giusto che sia così come si rimedia? si rimedia con la fantasia si rimedia con la creatività di cui si dice noi italiani siamo dotati si sopperisce appunto con questi strumenti alla carenza di strutture fisse si inventano strutture temporanee ogni anno per la mostra del cinema si costruisce per esempio il pala biennale che è un grande tendone che diventa una sala di protezione con 1800 posti senza il quale non sapremo come è vero perché lì vengono raccolti tantissimi eventi tantissimi spettatori tantissimi eventi senta ma è un come tutte le realtà culturali in questo momento anche Venezia ha bisogno di soldi? mancano dei soldi? Venezia o è molto o si porta dietro una sua no Venezia come dire ha un budget stabile da alcuni anni che vuol dire una situazione confortante nel momento in cui moltissimi stanno subendo tagli pesanti resta il fatto che i costi aumentano e quindi se il budget non aumenta progressivamente vuol dire che le risorse sono sempre meno ma il grosso problema è che Venezia ha un budget che è incommensurabilmente più piccolo rispetto ai suoi grandi competitori internazionali Can Venezia si fa con 12 milioni di euro all'anno Berlino il grande festival di Berlino che si vede concluso da poco ha un budget di 15-16 milioni Can ha un budget superiore ai 20 milioni di euro quindi vuol dire che noi siamo sempre costretti un pochettino a fare la parte del parente povero quello che deve fare le nozze con i fichi secchi eccetera a volte riusciamo a mascherare benissimo questa carenza di risorse a volte questa come dire questa povertà di mezzi rispetto ai competitor la si avverte la si avverte